Cioti di Sicilia tutto tondo, ci siete mai stata a Villafrati, Borgo dei Teatri? Oggi vi ci portiamo... Ma amore, ma come sei vestito? Oggi sono vestito da figlio dei fiori, perché qua c'è l'evento dei figli dei fiori e non solo, amore, chef stellato 30 cosce di Palermo. Sì, una stella Michelin nel 2023. Brava, faranno un dolce mai fatto prima che potete assaggiare solo a Villafrati e lo vedete oggi. E questo lo chef Giannobile, pasticcere. Tante altre cose, vestiranno, colori, chissà, noi vi facciamo vedere un po' tutto. Quindi, Picciotti, uno, due, tre, amore a bere di ste figlie dei fiori di Villafrati. Andiamo, Picciotti! Resta in silenzio perché dietro di te c'è lo chef Trentacoste, ecco in quadro, che sta facendo una dimostrazione di alcuni piatti. Vedete, amore, un piatto te lo porto qua vicino, te lo faccio vedere vicinissimo. Allora, ricordiamo che lo chef ha vinto la stella Michelin nel 2023 e al ristorante a Palermo. Aspira, amore, ed è vicino al nostro paesano, ed è marineo. Ed è qua ora a Villafrati. Ma ce l'abbiamo qua. Ma qua non l'ha visto mai vicino un piatto di uno chef stellato, amore. Ma che bello, bellissimo. È profumatissimo. E chi profuma, vero, si sentono un po' chi profuma. Io volevo assaggiare, però questo piatto deve girare, però lo devono vedere pure gli altri. Pazienza, amore, dobbiamo andare dallo chef allora. Dopo uscimo, vedremo se c'è queste cose a mangiare. Grazie, puoi andare. E ora, amore, tocca al dolce. Decidatevi che qua siamo con il maestro Giannobile, a Villafrati, un'istituzione e non solo. E questo è il dolce unico, come ho fatto prima. Salvo, come si chiama? E di quello che praticamente si chiama la lunetta del borgo. La lunetta del borgo, come è fatto noi, non lo possiamo dire a nessuno. Vengalo e lo vengono assaggiare. Perché si può mangiare solo qua a Villafrati da Giannobile. E ora lo sfurniamo, ora lo voglio mangiare. Brava, amore. Ecco, maestro, amore. Allora, l'onore è mio perché sono la prima in assoluto a mangiare questo dolce trato dal maestro. Ma che infortuni che hai, vediamo. Iniziamo da dire, apri, apri. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Ma, mamma, mangialo. E vogliamo sapere com'è, vogliamo sapere com'è. Allora. Come, come? Buonissimo. Finalmente tocca a mia mangiare, amore. Ecco, ecco, ecco. Guarda che c'è qua. Buon appetito. Lasciami qua. Sì? Va bene, me ne vado. Ciao, ciao. Ho tutto quello che mi serve. Guardate c'è qua. Io che soglio, freddo così. Ok. Sai che cos'è questo? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, siete preparate? Un buono, eh. Eh, aspetta, però vedo cose bianche anche. Questa è ranzasciura. Ranzasciura. Che cosa? È usata una pizza tipica di Tusa Sclafani, in provincia di Palermo. Che dite? Un altro gioco è qua. Allora, questa forse mai l'abbiamo mangiata, eh. La devi assaggiare. No, no, la dobbiamo assaggiare. Come allora? La assaggiare, diciamo. Ma a te sicuro ti piace. Amore, io vedo che quasi continua. Ah, sì. Questi, guarda cosa sono, amore. Cudiruna dolci. Dolci. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Mamma mia! È solo buonissimo, buonissimo. E te finisce sempre buona a te, amore. La faccia tua che sei allergico alle melanzane. Porca miseria. Questo, l'ho fatto lo chef. Ti sta mangiando una cosa scellata, amore. Sì, ci sono le melanzane, amore. Eh, se io me ne posso mangiare, com'è? Ma c'è il formaggio del caciocavallo, mi sembra. C'è una cosa buona. Bravo, amore, indovinato. Anche tu sei pratica adesso di mangiare. Bravo, amore. Io la finiera, amore. Ti faccio vedere il secondo piatto del maestro. Sì, ma io lo intervisto. Guarda qua, meraviglioso. Questo è un gelato. Ma chi c'è una rosa già da lì? Al tramonto io vedo cose bellissime. Siamo con la beghiera di Saffino e andiamo facendo pane San Giuseppe, giusto? Guarda qua che maestria, guarda. Allora, riprendo. E fanno queste forme. E poi diventa così, guarda. Aspetta, così. Sì, ma se io volessi assaggare un pezzotticchio, da me, da me un pezzotticchio. Amore, sei il solito. Pronto era già. Un'altra cosa di questo evento è questa. Amore, tu arrivi, guarda qua, e ti fanno... E ti vestono, ti preparano. I figli dei fiori, eh? I figli dei fiori così erano vissi da una volta. Tu manchi verissimo, amore. Sei in gioco. No, è perché tu invece... Sei in gioco, ma io pure. Allora, praticamente qua hanno creato tutte queste cose. Sì, tutte fatte da loro. Sì, esatto. Esatto, anche i fiori. Bellissimi, siete bellissimi. Possiamo andare, allora. E qua è l'area, amore, dove in questo pannello si possono lasciare i messaggi di pace. Guarda, c'è questa ragazza che nel frattempo sta facendo anche un dipinto. Guarda, che stanno facendo con il tuo corpo? Guarda, questo è l'angolo del body painting. Sì. Infatti mi stanno colorando, ma ci sono anche i fiori rose per le donne. Allora, questi cosa sono? Questi sono i fiori con i chupa chupa per i bambini. Per i bambini. Allora, io l'accetto, io l'accetto. Alle donne diamo la rosa. Grazie. Un fiorellino e la leccaletta. Grazie, questo per Vittoria. Visto? Sei bellissimo, amore. Pronto per la serata. Adesso è il momento di goderci la partita dell'Italia e poi musica picciosa. Allora, lì c'è la partita. Che mio, che chino, giù gli spalti pieni. È pienissimo. Amore, no. E dopo la partita, la musica. Sì, amore, guarda, guarda che bello. Queste musica a tema anni 60, 70, figli del fiori, la cieca. E' appiccina. Noi concludiamo così, vi salutiamo da questa bellissima manifestazione. Che dire, grazie a tutti. È stata bellissima. Oh, mi raccomando, prossimo anno, di nuovo, giusto? Vai, bravi, bravi. Bravi, ragazzi. Vedi, vi aspettiamo anche da Franti per trovare il nuovo dolce e unico che c'è a me. Ed è qua. Esatto. Ciao, picciotti. Ciao. Ciao.